Ora parleremo di qualcosa di bello, tipo un dialogo tra aereo e umano. Aspettate un attimo. Eccomi. Ciao. Comunque, lei era Candy, l'aereo. Adesso che possiamo fare? Possiamo fare un bellissimo dialogo tra di loro, tra me e Candy. Ciao amici. Ok. Sono qui, pronta a dirvi delle cose belle. La mia amica Miki ha fatto delle voce meravigliose. Molti bei disegni. Molto migliorata a disegnare i treni. Anche se ne si classifica come non binario. Miki sa disegnare veramente bene. Capito? Sì è vero, si può disegnare molto bene, ragazzi. Si può disegnare molto bene. Miki Candy, facciamo una gara di ballo. Perché no? Facciamo una gara di ballo. Adesso vai tu. Buona Pasquetta a tutti, ragazzi. E poi arriverà il freddo. Lo sarò per pochi giorni. Lo so. E poi l'inverno finirà. Chissà quanto durerà l'estate. Speriamo a durerà il più presto possibile. Perché l'estate non mi piace nemmeno a me. Io voglio volare con le mie ali sulla neve. Per questa parte del video possiamo chiudere. Ciao. Ciao.